Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Io sono sempre Gracia Sphere ed oggi andremo a pulire la moto e il sidecar, che è un lavoretto che ci tiriamo dietro da un po' di tempo e dobbiamo finire prima o poi. Vi ricordo innanzitutto e soprattutto di mettere un mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi e andiamo a leggere cosa vuole Sue Barry. Forse avrai visto le foto di me e di mio marito. Siamo stati i primi a completare la 24 ore delle grandi pianure di sidecar non solo a dire oggi. Tutti pensavano che i tracciati fossero troppo sconnessi e che passare 24 ore sul sedile fosse proibitivo, ma ce l'abbiamo fatta senza problemi. Flexino? Quando iniziavo a sentirmi acciaccata, mi bastava togliere le mani dall'acceleratore, sgranchirmene un po' ed ero a posto. La parte di 5 ore lungo il fiume ha però lasciato il segno sul sidecar, potresti dargli un'aria pulita? A proposito, Bobby si chiedeva se conoscesse qualche chiropratico. No, non conosco nessun chiropratico e andiamo ad iniziare il lavoro. Allora, non c'è nessun obiettivo in questa mappa, quindi possiamo pulire un po' quello che vogliamo. Come sempre vi ricordo che durante la pulizia parlerò di meno per farvi godere della pulizia in sé, del rumore dell'idropulitrice e dello sporco che se ne va. Allora, non c'è nessun obiettivo in sé, Allora, non c'è nessun obiettivo in sé, non c'è nessun obiettivo in sé, Nessun obiettivo in sé, nessun obiettivo in sé,섯' Phillip hollow. Passare un'icやmorsch gamma, piccolo in sé. Allora, non c'è nessun obiettivo in sé, nessun obiettivo in sé, nessun obiettivo in sé. Grazie a tutti. 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 Completato. Per adesso non ci stanno più capitando lavori belli grossi come per esempio lo skatepark o il parco giochi, insomma quelle cose in cui ci stavamo praticamente due ore, però va bene anche così, un po' di lavoretti un po' più piccoli vanno comunque bene. Detto ciò il video finisce qui ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glaciosphere è tutto, al prossimo video.